Il primo lockdown e le ultime restrizioni hanno avuto una ricaduta pesante sul settore delle lavanderie tradizionali che già a primavera aveva subito una drammatica riduzione del fatturato fino al 70%. L'allarme arriva dalla CNA di Pesero Urbino. Tra i più temuti effetti delle restrizioni ci sono lo smart working, le limitazioni agli spostamenti e la chiusura anticipata di locali, bar, ristoranti e pasticcerie. Per non parlare di cerimonie ed eventi che sono stati annullati, in particolare le lavanderie industriali sono state quelle che ne hanno risentito di più. A confermarlo è Rodolfo Nicoletti, responsabile amministrativo di un'azienda che ha la sede a Marotta di Mondolfo. Ad oggi, o precisamente al 23 di ottobre, abbiamo registrato un calo del fatturato del 49% rispetto al precedente esercizio commerciale e chiaramente si va a considerare nello stesso arco temporale. Questa azienda, nata nel 1965, ad oggi conta oltre 750 clienti nelle Marche e in Emilia Romagna e 89 dipendenti, alcuni dei quali in cassa integrazione da ieri. Oltre a questo stabile, poco distante, c'è anche un depuratore delle acque sottoposto ad analisi mensili per garantire il continuo controllo dei valori richiesti dalle norme. In questo periodo dell'anno qua vengono lavati 4-5 mila chili al giorno di biancheria rispetto ai 22 mila della stagione estiva. Lavorano principalmente con ristoranti e strutture alberghiere che da marzo-giugno sono state praticamente ferme. Nei mesi scorsi poi era tornata un po' di speranza e anche di lavoro, ma queste ulteriori limitazioni saranno di nuovo pesanti in termini di fatturato. Credo che questo secondo, che per me è comunque un lockdown, anche se mascherato, sarebbe potuto essere gestito diversamente, soprattutto per quelle categorie che vanno a perdere di più, che sono più penalizzate. Dietro ogni lavanderia, ricorda la CNA, ci sono intere famiglie che hanno fatto sacrifici, leasing o mutui per acquistare macchinario ai fondi dove operano e che non riusciranno a sopravvivere a lungo. Il loro ruolo è tra l'altro fondamentale per igienizzare i capi e per contrastare la diffusione del virus che si annida anche sui vestiti che indossiamo. Ora il decreto ristori da oltre 5 miliardi di euro prevede risorse immediate per le categorie più colpite, ma forse questa potrebbe rimanerni esclusa. Riascoltando più volte la diretta del Consiglio dei Ministri, sono state citate categorie come palestre, bari, ristoranti, palestre, NCC, tassisti, si è parlato di teatro, di cultura, ma nessuno ha mai fatto riferimento alle lavanderie industriali. Ci tengo qua a precisare che la nostra serie del codice Ateco è la 55 e non la 96 che è quella destinata al settore turistico e che però comunque le lavanderie industriali sono fortemente legate al settore turistico perché lavorano con l'hotelare e ristoranti. Visto che siamo in una località costiera, d'inverno l'hotelleria non è che sia così rilevante, non ci troviamo in una città metropolitane. E lavorate con i ristoranti? E lavoriamo con i ristoranti e se i ristoranti li chiudono alle 18, li fanno chiudere alle 18, questa è una grossa limitazione per noi. Chiediamo più considerazione per la nostra categoria, proseguito Rodolfo, siamo ancora poco tutelati. E chiediamo quindi appunto di essere magari considerati in tutte quelle categorie che hanno ricevuto un contributo economico a fondo perduto.